L'Italia si conferma, anche grazie all'Arma dei Carabinieri, un partner di eccellenza per gli Stati Uniti nel campo della ricerca e dell'innovazione, all'insegna dei valori che condividiamo. L'Arma dei Carabinieri, una delle principali forze di polizia ambientale, è particolarmente orgogliosa di condividere le proprie conoscenze, le proprie esperienze, con una delle più importanti e prestigiosi università del mondo. Grazie. 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 Grazie.